Anticipazioni Il Segreto, mercoledì 7 dicembre 2016. Purtroppo i regali assunti da Severo non riusciranno a trovare scappatoia per la povera Sol, che sarà costretta a rimanere con Eliseo. Alla locanda Emilia parlerà con Prado e Mattias per informargli della sua scelta di mantenere le distanze dal marito Alfonso. Nicolas annuncerà a tutti la lieta notizia della nascita di sua figlia e Candela e Rosario, impazienti di conoscere la nuova arrivata, si precipiteranno da Mariana, che rivelerà a loro il nome scelto per la piccola, Juanita. Intanto Onesimo proporrà a Ramiro l'idea di candidarsi alle elezioni, tentando così di mascherare le sue vere intenzioni, ovvero quelle di competere in prima persona contro un ingenuo eppolito. Chi la spunterà? Chi la spunterà? Grazie a tutti.